Cari amici di MilleUna Avventura, purtroppo per un paio di settimane non potremo più usare la nostra postazione solita e proveremo a fare qualche video comunque, anche se appunto da tablet. E vediamo in questo video gli esperimenti con Google. Ci siamo occupati spesso di intelligenza artificiale e Google è una di quelle società che si occupa anche di intelligenza artificiale, non solo col suo motore di ricerca. E c'è questo sito, experimentswithgoogle.com, dove possiamo lanciare per esempio questo esperimento particolare che si intitola Presto disegna una rete neurale, puoi imparare a riconoscere i disegni e in questa applicazione online c'è l'archivio più vasto di disegni al mondo che sono condivisi pubblicamente per contribuire alla ricerca sul machine learning. Ma disegniamo. Dobbiamo disegnare un grattacielo in meno di 20 secondi. Vediamo se ci riusciamo. Un grattacielo sarà fatto... Non so come ha fatto a capirlo. Disegno una gomma per cancellare. Vediamo. Non so come faccia. Disegno una forchetta. Questo è facile. Sicuramente ci riuscirò. Eh, ma è troppo bravo. Disegno un ginocchio. Vediamo come verrà questo ginocchio. Ma dai, non è possibile. Disegno una balena. Qui dobbiamo proprio dare fondo alle nostre capacità. Ecco, ha capito. Disegno una linea. La linea è facile. Complimenti in due secondi. Bei disegni. La nostra rete neurale ha indovinato sei dei tuoi disegni. Selezionane uno per scoprire cosa ha visto. Magari la più interessante è la balena. Andiamola a vedere. Ecco, la rete ha inoltre pensato che il tuo disegno somigliasse a questi. Prima un tubo da giardino. Una balena, che è la corrispondenza corretta. Un delfino. Che, tra l'altro, vedo che ci sono altri artisti in giro. Perché, in effetti, riconoscere un delfino in quello sgorbio lì. Ecco, come fa a riconoscere una balena? Ha imparato esaminando questi esempi disegnati da altre persone. Vedo che ci sono degli artisti notevoli. Alcune sono fatte davvero bene, pur essendo molto stilizzate. Hanno cercato tutti di individuare alcuni elementi caratteristici che hanno tutte le balene. Cioè il soffio, le pinne, la coda, la pancia, in qualche modo. Qualcuno ha disegnato anche un'orca, ma è stata riconosciuta come una balena. Ecco qui, quindi, che abbiamo visto questi disegni, ma ce ne sono, li possiamo condividere, ma ce ne sono altri. Vediamo un attimo se riesco a recuperarli. Ecco, la raccolta è questa. Ecco qui. Ci sono tantissimi disegni che corrispondono a determinati oggetti. Per esempio, questo è un boomerang, non so se, vediamo se riesco a zoomare un po'. Qui c'è una vasca da bagno, qui c'è un cammello, qui c'è una macchina fotografica, una sedia e così via. Andiamo a vedere magari la papera, anzi, questo cos'è? Questo dovrebbe essere un pesce. Vediamo i vari pesci che sono stati disegnati. Ecco, è stato riconosciuto come pesce uno qualsiasi di questi disegni che migliaia e migliaia di persone hanno disegnato quando gli è stato chiesto di disegnare un pesce. E sulla base di queste indicazioni, di queste tracce, l'intelligenza artificiale è riuscita a individuare la forma di un pesce e di riconoscerla quando qualcun altro la disegna senza alcuna indicazione ulteriore. Bene, direi che possiamo anche concludere qui il video. Vi metto in descrizione il link per andare a provare voi stessi questa serie di disegni, di provare anche voi a mettere in pratica le vostre capacità artistiche e vediamo se l'intelligenza artificiale riuscirà a riconoscere i vostri disegni. Mi sembra molto ben addestrata. Non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione e ci si rivedi in uno dei prossimi video. Ciao a tutti! Ciao a tutti!